112 chiamate totali in 48 ore, bene al di sopra delle 35-40 ricevute in media in una giornata. In città la neve ha più che raddoppiato gli interventi della Polizia Municipale, tra strade sbarrate e autorotte. Lo dicono i numeri, lunedì 28 e martedì 29 dicembre, all'apice delle precipitazioni, la centrale operativa di Via Rogerio ha gestito 25 crolli di grossi rami, 5 incidenti stradali e 10 danneggiamenti al patrimonio privato o pubblico. Per esempio i veicoli o gli spazi esterni dei bar. Sono state due intense giornate con tante difficoltà di diverso tipo e la Polizia Locale, con le forze a disposizione, è intervenuta in moltissime situazioni a seguito delle richieste dei cittadini. Ringrazio davvero tanto per gli agenti che hanno lavorato in difficili condizioni. Nel parco daturi di Viale Risorgimento, tre grosse piante sono crollate al suolo. Noi dobbiamo chiudere il parco per il semplice motivo, che qui non venga nessuno, perché c'è il pericolo delle cadute piante. L'intensa nevicata di questi giorni ha ricordato a tanti piacentini quella del 1985. Io l'ho vissuta in prima persona perché eravamo in giro con i mezzi a spalare e sinceramente quella del 1985 ha avuto delle caratteristiche di eccezionalità che non appartengono a quella di lunedì. Sinceramente, secondo me, c'è stata una cattiva gestione, non mi riferisco a nessuno in particolare, ma in generale. Secondo me è saltato tutto un sistema, e questa nevicata lo dimostra, legata anche agli appalti. Qui siamo a Gossolengo, qui in zona abbiamo delle cave, in cui ci sono dei mezzi che dietro autorizzazioni da parte della Prefettura, perché questi mezzi normalmente non sono autorizzati a girare per le strade, ma dietro autorizzazione del pofretto potrebbero tranquillamente intervenire e per le dimensioni, per le capacità che hanno metterebbero la circolazione in sicurezza in molto meno tempo.